Ciao ragazzi, benvenuti nella nuova puntata dello YouTuber Documentary. Noi siamo le Karma Beaches e oggi vi parleremo del Trentino, o più precisamente dei Trentini Doc, gli Aignup. Nascono nel lontano 2012 per opera di una creatura mistica denominata lo Scarso, che dopo sei mesi scomparve per ragioni sconosciute e rimasero così solo Kamper e Spawn. Questi due esseri godono spesso della compagnia di alcuni loro simili, come Leo, Lever, Tizio Benti, detto anche Cileno, Erika, fratello di Kamper, e tutti gli altri membri della Illuminati Crio. Ma oggi vediamo nel dettaglio i nostri due protagonisti. Il Kamper è un essere cinico, bastardo e stronzo, che si arrabbia facilmente e odia i bambini. E questi sono solo alcuni dei suoi preci. Anche se munito di patente non guida, ma può sempre sfruttare il Leo o lo Spawn per farsi scarrozzare. La sua compagna è Erika, un esemplare femminile adatta per l'accoppiamento del Kamper. I suoi peggiori nemici sono i ragni, infatti è fortemente aracnofobico. Lo Spawn, al contrario, è calmo e non si arrabbia quasi mai. Abita molto vicino al Kamper. Detto anche giovane, ma poi sostituito da Leo, con una sagoma di cartonato della sua faccia, intraprende una relazione amorosa con la Kokeshi. Anche se, dopo il famoso lancio del buccache di Ambra, la tristezza ha pervaso gli occhi di entrambi gli amanti. In ogni caso, Spawn sa che potrà sempre rimediare con la tipa megafiga in sauna. Al pari del pesce siluro e del ragno violino messi insieme, i nostri trentini doc hanno una vita movimentata. Tra i diverbi finiti con... E adesso controlliamo... Gaming e il festival fluviale. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, mettete like, commenta e condividi e soprattutto iscriviti al canale. Accendi la campanella per rimanere sempre aggiornato. Ciao a tutti dalle Kermabicis. Ciao, al prossimo video. Al pari del pesce siluro e dei ragni violini, beh. E questi sono tutti gli altri membri dell'Unione. Il Leo o lo Spawn per farsi scarrozzare. Spawn, non Spawn. Zitto. Anche se... Scusa. Lancio del bucacche. Cosa? Lancio del bucacche. Che roba è il bucacche? Il bucacche è una pratica sessuale in cui c'è la belle... Che faccio? Che schifo. Scusa.